Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco per tornare a parlare del crack de Iulemar consegnate ieri le firme raccolte con la petizione popolare promossa dal Movimento 5 Stelle ai presidenti di Camera e Senato. Poi la cronaca, un duro colpo allo spaccio di droga nella provincia di Napoli. Tre persone sono state arrestate, 10 chili di cocaina sequestrati. Ieri l'ultimo saluto nella chiesa di San Ciro a Portici a Tullio e Giuseppe. Pregare per le famiglie delle vittime e dell'assassino sono le parole dell'arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia. Via ai lavori di riqualificazione a Piazzale Cesare Battisti dopo la richiesta del comitato di quartiere rinascita. In chiusura allo sport con la Turris, i corallini saranno impegnati in trasferta a Viterbo con il Monterosi. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Vincenzo Salerno, ieri a Roma dai presidenti di Camera e Senato insieme agli obbligazionisti della De Iulemar. Come è andata? Un altro passo in avanti sulla strada difficile e tortuosa di provare ad ottenere un ristoro per i nostri concittadini truffati. Il crack ha coinvolto 13.000 famiglie. Un crack che fuori dai nostri contesti abbiamo anche difficoltà a spiegare l'entità. Spesso facciamo un parallelo. Il crack Parmalat in tutto il mondo ha recato poco più di 10 miliardi di euro di debiti. Qua parliamo di quasi un miliardo di euro su una nocciolina rispetto alla mappa mondiale che è il territorio vestuiano, ma in particolare il territorio del Greco. Questo serve come parametro per rendere l'idea della tragicità, dell'impatto che ha avuto il crack di Iulemar. Avete consegnato le firme raccolte. Che cosa chiedete con questa petizione popolare? Abbiamo raccolto quasi mille firme e con soddisfazione e convinti che possa essere una strada vincente. L'abbiamo protocollata tanto al Presidente della Camera quanto a quello del Senato. Poi ieri con il Presidente della Commissione Bilancio, il Senatore Pesco, abbiamo ipotizzato la possibilità di intervenire sin da questa legge di bilancio con un emendamento che vada sulla stessa lunghezza d'onda. Bisogna incominciare sempre di più a vivere questa vicenda senza colore politico ma con il coinvolgimento di tutti gli attori politici coinvolti dal Parlamento alla Regione, ai Comuni perché il crack per le dimensioni di cui accennavo prima riguarda tutti, non ha un colore politico. Una battaglia che va avanti da ben nove anni. Nove anni. Nove anni che sono un'eternità ma poi se parametrate al percorso legale e politico che è stato fatto sono anche anni che sono stati necessari. Giusto per dare un'idea, spiegare come ho anticipato, la struttura della truffa dei Ulemar a chi non viveva il territorio era quasi impossibile. Le sentenze che nei vari gradi e nel tempo sono arrivate hanno permesso di poter finalmente descrivere e costruire anche agli occhi di chi non viveva le nostre realtà quello che è stata la truffa nella sua essenza. In rappresentanza degli obbligazionisti truffati ieri a Roma anche Agnello Ferro siete soddisfatti degli esiti dell'incontro? Sì, eravamo io e Giovanni Aurelia come rappresentanti degli obbligazioni soddisfatissimi perché il presidente Daniele Pesco già ci ha conosciuto già diversi anni fa nella Cassazione per l'acquisizione della società di fatto. Ha conosciuto, si è ricordati di alcuni nostri amici che stanno un po' in difficoltà a casa e ci aveva mandato i suoi saluti e quindi noi abbiamo avuto buone prospettive anche perché la competenza di alcune persone che hanno soddisfatto questo nostro tavolo. Ieri ci ha fatto fai che abbiamo detto che si fa avanti con, non dico a gonfie vele, ma comunque ci siamo ecco. Un crack che come sappiamo ha messo in ginocchio l'economia della quarta città della Campania con dei veri e propri drammi per alcune famiglie torresi. Ieri voi avete lasciato anche una lettera per il ministro. Sì, abbiamo lasciato una lettera al presidente Daniele Pesco per il ministro Marta Cartabia perché si interessasse meglio del problema di Torre Annunziata che c'è un solo giudice che sta seguendo tutti i processi, c'è un po' di lavoro da svolgere veramente e questa lettera esprime tutto il nostro grido di dolore e i vari passaggi che in questa fase stanno lagunando proprio il nostro ideo giudiziario e quindi abbiamo chiesto per cortesia, cercate di intervenire subito, fate presto, stiamo lasciando troppi morti in giro. Una data significativa per questa vicenda della De Iule, ma era il prossimo 15 novembre, perché? Il 15 novembre rispettiamo la data della sentenza penale, abbiamo i Dallagatta e i Lemboli che hanno 15 anni di carcere che sono lì sul groppo, come si sa dire, anche le donne della Iuliano, 5 anni e mezzo, poi ci sono ancora altre cause sospese quando riguarda altri penali, quindi noi ci aspettiamo qualcosa di buono e di positivo subito perché stiamo aspettando da due anni questa sentenza, che potrebbe essere una sentenza di effetto domino per altre sentenze, attendiamo quella causa della BOF già da qualche tempo, attendiamo le 12 banche che siamo in causa, attendiamo i trassi svizzeri che potrebbe essere un buon inizio perché è una delle prime sentenze che dopo dieci anni che noi stiamo aspettando. Operazione anticrimine a largo raggio per i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, tre gli arresti messi a segno dai militari dell'arma che hanno inferto un duro colpo alla criminalità organizzata. Nel comune di Palma Campania i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga un 37enne incensurato del posto, l'uomo a bordo della sua auto era evidentemente nervoso. Quando i carabinieri hanno approfondito il controllo hanno trovato nel cofano ben dieci chili di cocaina purissima suddivisa in dieci confezioni da un chilo. Singolare che ogni pacco di droga presentasse al suo interno una banconota colombiana e in basso rilievo una svastica. La cocaina avrebbe fruttato oltre un milione di euro nella vendita al dettaglio. Durante le diverse perquisizioni domiciliari effettuate dai carabinieri del comando provinciale a finire in malette per detenzione abusiva di arma e ricettazione il 30enne Simone Bartiromo e un 32enne incensurato. Il primo è di Marano di Napoli mentre l'incensurato è del rione Traiano. I carabinieri del nucleo investigativo hanno rinvenuto nella loro abitazione di San Gennaro Vesuviano una pistola risultata rubata e pronta all'uso e 12 munizioni calibro 9x21. I rinvenuti e sequestrati anche 13 chili di sostanza da taglio, un impianto di videosorveglianza con 7 telecamere perimetrali, diversi smartphone e tre catane. I tre arresti sono stati convalidati e tutti rimangono in carcere. La nostra preghiera oggi è per queste famiglie che sono nel pianto, per le famiglie di Tullio e di Giuseppe distrutte da una ferita irreversibile, da una spada che trafigge il cuore, da una mancanza impossibile da colmare, a cui solo il tempo e la fede daranno consolazione. Sono le parole dell'Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, che ha ufficiato la funzione ieri pomeriggio nella chiesa di San Ciro a Portici. Familiari e amici hanno gremito la chiesa per dare l'ultimo saluto a Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani uccisi a colpi di pistola la notte tra il 28 e il 29 ottobre scorsi ad Ercolano. Ma la nostra preghiera, ha detto ancora l'Arcivescovo nel corso dell'Omelia, è anche per i familiari di chi ha ucciso questi due nostri figli, facendo precipitare nel dolore, nella disperazione e nello smarrimento anche la propria famiglia, anch'essa addolorata e basita per quanto accaduto. A voi genitori mi rivolgo non da sindaco ma da padre. Sono le parole del primo cittadino Enzo Cuomo e dico che in questa tragedia abbiamo scoperto che quello che è successo a Giuseppe e Tullio sarebbe potuto capitare ad ognuno di noi, ad uno dei nostri figli. Continueremo ad essere a fianco delle vostre famiglie, per la ricerca della verità assoluta e soprattutto della giustizia, quella giustizia che vogliamo tutti insieme e che chiederemo, non con rabbia ma con quella serenità di chi aspetta dalla giustizia, un momento di verità e di punizione per chi compie dei reati tanto crudeli e tanto gravi. Tra lacrime e commozione non è mancato un lungo applauso e un lancio di palloncini bianchi all'uscita delle bare dalla chiesa. Via ai lavori di riqualificazione del marciapiede e all'installazione di paletti per evitare soste selvagge in un tratto di piazzale Cesare Battisti a Torre del Greco. Dopo la richiesta del comitato di quartiere di nascita, l'amministrazione comunale è prontamente intervenuta. Interventi necessari per la sicurezza dei piedoni e per l'attraversamento dei disabili. Il comitato in queste ultime settimane facendosi portavoce dei residenti ha inoltrato una richiesta di lavori di riqualificazione. Alla consigliera Yolanda Mennella e all'assessore dei lavori pubblici Felice Caglione vanno i nostri ringraziamenti per l'impegno e la serietà che mettono in campo per la nostra città. In brevissimo tempo hanno accolto la nostra richiesta, dando inizio nella giornata di ieri agli interventi di riqualificazione. E via a questi lavori riveste una grande importanza per il quartiere. Si giunge così a soluzione di un problema evidente che metteva non solo in pericolo la sicurezza dei piedoni ma addirittura ne negava l'attraversamento ai disabili. Ai residenti chiedeva un po' di pazienza per il disagio, era un intervento che andava assolutamente fatto per la salvaguardia di tutti. Impegno in trasferta per la Turris contro la matricola Monterosi Tuscia, squadra a espressione di un piccolo centro nel Viterbese di poco più di 4.000 abitanti ed esordiente assoluta nei campionati professionistici. I Corallini arrivano alla partita col morale alto dopo la vittoria della scorsa settimana nel derby con la Juve Stabia. Mister Caneo potrebbe contare sul rientro del centrocampista Franco che ha superato i problemi che lo hanno tenuto fuori squadra nelle ultime partite, ma le sue condizioni saranno valutate fino a poco prima del match. Nulla da fare invece per Ghislandi, ancora alle prese con i problemi fisici e quindi pare esclusa la sua convocazione. La Turris conterrà sulla vena realizzativa di Giannone, autore della doppietta con cui ha dato il successo alla sua squadra nel turno precedente e si spera nel recupero di forma di Santaniello. Ad arbitrare l'incontro che si giocherà in campo neutro a Rocchi di Viterbo per l'inadeguatezza dell'impianto del Monterosi ci sarà il signor Calzavara di Varese, assistito da Spagnolo di Reggio Emilia, Torraca di La Spezia e Renzi di Pesaro. Fischio d'inizio domenica alle ore 14.30. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Buon fine settimana. Il TG di TV City vi dà appuntamento a lunedì. Grazie a tutti.